Un Natale di solidarietà e sorprese da domani a Lipunti. Ad organizzarlo, nell'area verde del Parco Giochi di Via Pasella, l'associazione culturale Io Centro, attiva sul territorio da due anni. Io Centro lavora tutto l'anno per rilanciare la borgata di Lipunti, riscontrando un grande seguito di pubblico ad ogni progetto. Tra le iniziative di domenica va sottolineata la donazione, da parte dell'Ambulatorio Infermieristico Nursing, di un'altalena per bimbi da 1 a 5 anni e per bambini disabili. Il Comune, presente domani con l'assessore ai lavori pubblici Gianfranco Meazza e l'assessore all'ambiente Antonella Luglier, ha fornito il supporto tecnico per l'installazione dell'altalena. Partiremo alle 10 con la piantumazione nell'area verde di Via Pasella di due ulivi e varie piante ornamentali. Alle 12 invece ci sarà l'inaugurazione di una nuova altalena, un gioco inclusivo, adatto anche a bambini con disabilità. Sarà presente l'assessore Meazza, l'assessore Luglier, e sarà l'occasione chiaramente per dare un messaggio di solidarietà verso persone con disabilità. Alle ore 16 invece apriremo i mercatini natalizi, composti da manufatti che gentilmente verranno offerti dalla comunità di Lipunti. Inoltre sarà presente una casa di Babbo Natale, donata ci dal Comitato Genitori. Riteniamo che le borgate siano una parte fondamentale della città. Questa è soltanto una delle tante iniziative che l'associazione ha portato avanti e porterà avanti. Abbiamo in programma tante altre iniziative a partire dal prossimo carnevale. Il quartiere sta rispondendo molto bene. Quest'anno abbiamo organizzato il Vivi Quartiere per il secondo anno. C'è stata una risposta veramente entusiasmante da parte di tanti ragazzini, ma anche di adulti. Noi vogliamo ancora incentivare il quartiere e accompagnarci insieme a noi in questo cammino ricco di eventi.